Come sta ripartendo questa strana estate 2020? Allora gli inizi sono stati difficili come ben si può immaginare e ora non vorrei neanche dirlo, insomma sono una decina di giorni anche grazie al tempo bello si sta riprendendo piano piano. Questa zona qui di Procida è un po' più avvantaggiata perché si lavora apprettamente con le barche, quindi con moni, motoscafi e quindi diciamo che sia di mattina che di sera si sta iniziando a vedere qualcuno in più. Ovviamente le persone che stanno sull'isola ancora sono poche, si nota appunto la quantità di persone, insomma di poche persone che arrivano via terra. Si tratta di un turista mordi e fuggi che viene solo per mangiare, non è stanziale come diceva lei e quindi di conseguenza noi soffriamo questa situazione e soffre questo concetto di locale. Non si vendono libri, il vino è ad appannaggio di persone che hanno la cultura del vino, quindi se viene qualcuno e ci chiede sprizze e peroni noi facciamo fatica ad andare avanti. Adesso pian piano, prima era solo i fini settimana, adesso la gente si muove anche a poca volta, però si sta muovendo. Per la Coricella ancora siamo un po' poco, però abbastanza che ci vengono maggiormente, noi lavoriamo con i napoletani, i campani, lavoriamo con i campani. Grazie a Dio stiamo cominciando a ritornare, ma maggiormente sempre nel weekend. La zona è molto gettonata, come vedete, è un bel posto, speriamo a Dio che De Luca non richiude di nuovo tutto, perché se no ci mettiamo veramente male come lavoro, ci mettiamo veramente male. Però noi cerchiamo di sopravvivere. Grazie a tutti.